Massimo Fraticelli del WWF c'è stata, chiamiamola, polemica ma in realtà voi avete fatto appunto semplicemente un'annotazione non per guastare la festa, per impedire diciamo così i rally d'Abruzzo ma per far rispettare una sorta di prassi e in questo diciamo che l'organizzazione secondo voi è stata abbastanza carente? Sì, noi non abbiamo neanche, non siamo stati noi a fare una sollecitazione all'ente parco un intervento nei confronti di questa attività, assolutamente, noi registriamo che l'ente non può tra l'altro che dare un parere negativo nei confronti di un'attività del genere che va a ricadere in un sito di interesse comunitario quindi con una valutazione di incidenza che deve essere fatta e che chiaramente è negativa, un'attività del genere di auto quindi come dire un certo rumore lo fanno scarichi di CO2 in passaggi continui e ripetuti fanno sì che proprio in zone di alto valore ambientale quindi presenza di cervi, di caprioli, di lupi, gli animali possono abbandonare la valle in questo periodo loro hanno i piccoli quindi abbandonare il luogo con i piccoli è un problema tutto questo ci sembra che si potesse in qualche maniera risolvere qualora l'organizzazione avesse coinvolto il parco per tempo trovare un itinerario diverso che non sia proprio quello di una zona di alto valore ambientale un sito di interesse comunitario in una zona del parco particolarissima dal punto di vista di qualità per cui registriamo soltanto questo che per la prima volta l'ente non ha fatto altro che dover applicare la normativa per cui i sindaci stessi che chiedono all'ente di cambiare opinione è un po' come dire non può cambiare opinione perché è un'attività che in quelle zone non può essere consentita caso mai con i sindaci avrebbero dovuto per tempo perché credo che la manifestazione partirà il 6-7 settembre non so se ci sono ancora i tempi per poter modificare l'itinerario il 31 di luglio gli organizzatori chiedono l'autorizzazione il 20 di agosto hanno il procedimento amministrativo concluso con un diniego credo che ci abbiano messo anche poco tempo insomma quindi forse coinvolgere il parco per tempo significava forse avere un itinerario diverso in altre zone e forse svolgere il rally